estate 2019 conte non è l'allenatore giusto per noi non rientra nei nostri piani conte va all'inter gioca al derby dopo poche partite dall'inizio della stagione ti schianta 2 a 0 l'inter vince il campionato l'anno dopo lo vince ma comunque vince sempre più trofea di te estate 2024 conte non è l'allenatore giusto per noi conte non rientra nei nostri piani conte torna san siro dopo poche partite dall'inizio del campionato e ti schianta un'altra volta 2 a 0 complimenti prima conte non è stato preso per prendere giampaolo giampaolo dal dirigente che voi tanto tanto rimpiangete chiamato maldini che prese giampaolo piuttosto che prendere conte e poi da chi prende fonseca per non prendere conte e poi fonseca lo si può difendere lo si può adorare lo si può giustificare ma tra fonseca e conte c'è un abisso c'è una fossa delle marianne tra i due il napoli cosa ha fatto il napoli stasera ha giocato bene ha giocato meglio sono cose a cui non saprei rispondervi ma vi rispondo con due parole molto semplici il napoli ha giocato punto ed è quello che basta il napoli ti ha fatto vedere come andava vinta questa partita sfruttando le occasioni buttando la palla in porta concretizzando quello che tu non hai fatto quello che tu non hai mai fatto da inizio anno oggi perché oggi se ci fosse stato l'inter a giocare quella partita al massimo sarebbe finita in pareggio ma l'inter avrebbe vinta questa partita perché ci sono squadre di sé ci sono 19 squadre di serie a che quando arrivano davanti la porta negli ultimi 16 metri quando creano occasioni concretizzano poi c'è il milan che non concretizza mai non butta la palla in porta anzi neanche non butta la palla in porta non la coglie nemmeno non la coglie nemmeno c'è tanto da dire oggi c'è tanto da dire il primo gol dopo quattro minuti classico da milan classico da milan contro il parma inizi prendi gol dopo 40 secondi contro lazio dopo quattro minuti rischi di prenderne due pure contro il venezia nei primi dieci minuti gli dai 3 4 palle gol però comunque il venezia gliela e lì certa gente non vuole vedere perché vabbè vinto col venezia allora l'accantonano la cosa il lecce anche lecce ha avuto due tre palle gol nei primi dieci minuti il club rouge ha avuto due palle gol nei primi cinque minuti del secondo tempo e ti ha fatto gol arrivi a stasera e che succede succede quello che era super prevedibile prendi gol dopo quattro minuti da una svista difensiva terribile e ci aggiungo che già un minuto e mezzo prima lukaku ha tolto dalla porta il gol della sua squadra non del minato dalla porta il gol della sua squadra palla in profondità 0 marcature 0 chiuse delle linee di passaggio 0 lettura difensiva 1 a 0 napoli lì cosa fai poi ti svegli sì ti svegli ci siamo svegliati non posso dire il contrario ma cos'è fatto niente hai avuto tante occasioni non si è riuscito a fare gol ragazzi la palla va buttata in porta cioè io è due anni e mezzo che ve lo dico che la palla va buttata nella cazzo di porta cioè non è inutile dire è no però abbiamo creato però la palla va buttata in porta giochi a calcio vince chi fa più gol chi fa un gol in più dell'avversario vince la partita tu non butti la palla in porta alias non vinci la partita hai avuto 6.000 occasioni pure il regalo della difesa nel napoli perché pure il regalo della difesa nel napoli ti sei mangiato pure quel gol arrivi al secondo tempo intanto prendi il 2 a 0 il napoli fa praticamente fino all'ottantesimo fa due ti rimporta ti fa due gol e ti insegna com'è e cosa vuol dire concretizzare arrivi fai un gol e ti meravigli che è fuori gioco io non mi meraviglio che è fuori gioco anzi mi sarei meravigliato fosse stato gol ti meravigli ragazzi ma vogliamo un attimo aprire gli occhi o no o no perché io una settimana e mezzo fa quando abbiamo vinto 1 a 0 con l'udinese che tutti mi davano contro è vittoria di gruppo vittoria di qui vittoria di là vittoria di qui vittoria di là io non ero vittoria di qui vittoria di là ragazzi abbiamo preso due gol dall'udinese su due dormite difensive quando poi ti toccherà il napoli si ride e quando adesso vi dico che quando toccherà la juventus si ride non si concretizza non a volte non si crea nemmeno e quando si crea non si concretizza e quando si concretizza l'avversario è così scarso perdonatemi lecce venezia che la partita la vinci lo stesso perché questa è la realtà il derby il derby che vinto avrà sbaglia con la porta vuota o caffor sbaglia con la porta vuota quell'altro fa il colpo di testa in bocca al portiere sono tutte cose che poi le paghi le paghi le paghi poi cambia fa il gol della vita vinci il derby vabbè una partita che è passata quella pensiamo al presente se se tu guardi i dati perché se tu vai a vedere i dati scrivi ciò davanti milan napoli e leggi 2 a 0 dici leggendo dici cazzo però come può essere 2 a 0 tiri 13 a 9 per il milan tiri in porta 5 a 4 per il milan possesso palla 62 a 38 per il milan passaggi 559 a 357 per il milan precisioni passaggi 89 85 per cento per il milan e 0 a 2 poi prendi la partita la riguardi dall'inizio alla fine e capisci perché perso perché anche con questi date la mano hai fatto schifo e se tu con questi dati alla mano fai schifo significa che tu fai veramente schifo perché se perché già pareggiare con questi dati è vergognoso già pareggiare figurati perdere 2 a 0 con questi dati alla mano tu di 13 tiri di 5 tiri non importa non sei stato capace di fare un gol e questo non è accettabile non è accettabile se sei il milan non è accettabile se sei l'inter non se non è accettabile se sei la squadra che lotta per la retrocessione in serie d non è giustificabile e questa è una cosa che manca da tanto tempo da tanto tempo da dopo lo scudetto da dopo lo scudetto che manca questa concretezza sottoporta negli ultimi metri che ci mangiamo gol che io neanche a paperissima vedo mangiare quello di abram e okafor poi nel derby sta una cosa scandalosa quello di musa stasera è stata una cosa scandalosa questi gol non si sbagliano ma ma neanche tu ci avessi in campo e la primavera tu questi gol non li sbagli non ti devi permettere di sbagliarli chi li sbaglia si fa 10 partite in panchina fisso quando è che lasciamo avere un po' di concretezza sottoporta poi ovviamente passiamo anche alla difesa il secondo gol ha fatto un gol della madonna il secondo gol ve lo posso anche perdonare perché ci sta il primo no il primo no ragazzi il primo gol non si prende cioè ragazzi ma io chi è ultimo in classifica? fatemi un attimo vedere ultimo in classifica c'è il venezia che ha 5 punti ha vinto una partita sola ma gol come primo gol del napoli io al venezia non glielo ho visti prendere orrori difensivi così non glielo ho mai visti fare e siccome signor ciabattina fonseca parla no dobbiamo lottare per lo scudetto perché piripi 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 lo sai che il massimo di sconfitte che ti puoi concedere in una stagione per vincere lo scudetto sono 4 e tu ne hai già perse 3 parma ferentina e napoli partite che giocate con un po' di sale in zucca non avresti mai perso firenze ha sbagliato due rigori a parma ha sbagliato un casino di gol hai preso due gol vergognosi stasera non hai concretizzato ti sei fatto concretizzare al passivo quindi neanche di sconfitte nette sconfitte dove tu hai delle grosse responsabilità però il cielo è sempre perché è divertente questa è una parte molto importante quella che vi sto per dire perché molta gente che forse non mi segue non mi conosce non sa chi sono che ci sta è però quando sei quando vinci sei felice e quando perdi sei incazzato non ce la fai mai a stare da a prendere una posizione sia la posizione che prende la posizione che mi sono tutti i coglioni cioè la volete capire o no volete capire che noi dal posto scudetto che siamo altalenanti siamo discontinui che neanche io a scuola ero così discontinuo ve ne siete resi conto di questa cosa vi siete resi conto che anche negli anni passati andavamo a vincere contro il Napoli andavamo a vincere contro la Juventus vincevamo con la Roma andata e ritorno vincevamo con la Fiorentina e poi si perdeva col Sassuolo si perdeva col Monza si perdeva col Torino si pareggiava col Genoa si pareggiava addirittura si straperdeva con l'Udinese questo non me lo siete dimenticato? perché io no perché la squadra che mi vince il derby e stasera mi gioca una partita così per me è bocciata è bocciata ragazzi nel calcio non conta giocare bene non conta tirare di più non conta fare più cose nel calcio conta buttare la cazzo di palla in porta e a maggior ragione se le possibilità che hai di buttarla in porta sono ben come se vinci da questi dati 13 in 96 minuti tu hai tirato 13 volte in 96 minuti non sei giusto a fare un gol questo è grave questo è gravissimo questo è più grave che perdere 4 a 0 dell'avversario a fare 13 tiri perché questo è grave cioè è più umano il 4 a 0 di quando eravamo 7-8 anni fa che ci fecero nell'era mia Elovich così non ha senso così è più sconfitta questa di quella non lo so non lo so poi vogliamo parlare degli assenti parliamo degli assenti a me degli assenti non me ne frega un cazzo tu hai una squadra tu la devi mettere in campo e soprattutto alla luce di quello che hai creato nella partita gli assenti non c'entrano veramente niente perché con la porta vuota li fai li fai ci vediamo con la reaction domani basta 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 basta